ciao ragazze sto realizzando questo video come promesso per farvi vedere la modalità corretta di sigillatura del semi permanente quindi vado a stendere i due colori che ho scelto per fare questa dimostrazione consideriamo che sulla tip non ha senso mettere la base per semi permanente perché non è che dobbiamo garantire l'adesione quindi in questo caso avremo messo base per semi permanente poi senza sgrassare stendiamo il colore io vi consiglio la base di stenderla leggermente lontana dalla cuticola un millimetro dalla cuticola per far sì che poi col col colore riusciamo andare proprio sotto cuticola evitando che il colore stesso sbavi a causa della dispersione della base ok quindi in realtà a un millimetro dalla cuticola noi appoggiamo il colore sull'unghia naturale adesso vado a catalizzare 60 secondi il primo passaggio di colore e nel frattempo procedo con la stesura di un altro colore questo che avete visto adesso era evidentemente il nero adesso vediamo la stesura del tortora che poi io consiglio di sgrassare perché io consiglio di sgrassare i colori quando utilizziamo i sigillanti senza dispersione per evitare che la dispersione del colore stesso si mischi con il sigillante e ne comprometta la lucentezza e quindi sempre quando utilizziamo un sigillante con qualsiasi trattamento sia gel sia semi permanente vi consiglio di andare a sgrassare il colore proprio per evitare appunto che la dispersione del colore si mischi col sigillante senza dispersione ok stessa cosa vado in lampada 60 secondi nel frattempo ha finito la polimerizzazione del primo strato di nero nella prima stesura di nero quindi procedo con la seconda è evidente che quando dobbiamo fare una stesura su tutte le unghie possiamo procedere alternando una mano alla volta quindi mandando in lampada un unghia alla volta e poi facendo una catalizzazione completa del colore sempre di 60 secondi in modo che siamo sicuri che tutte le unghie hanno polimerizzato in lampada 60 secondi quindi completo la seconda stesura intanto appoggio qui per essere sicura che entrambe le unghie entrambe le tip scusate abbiano 60 secondi precisi di polimerizzazione aspetto che finisca questa in questo momento e procedo allo stesso modo quindi sempre 60 secondi in lampada e nel frattempo stendo il secondo strato di tortola ok allora quando andiamo a sgrassare il colore possiamo renderci conto che una minima quantità di colore rimane sul pad perché quella quantità di colore è il pigmento che diciamo trasuda con lo strato di dispersione che andiamo a rimuovere però questo non compromette minimamente la pigmentazione o la copertura del colore ho messo il secondo strato aspettiamo che termini della polimerizzazione del nero così andiamo a vedere quando vogliamo la dispersione la quantità di prodotto che se ne viene via la quantità di prodotto scusate la quantità di pigmento che può venire via talvolta con alcuni colori procedo con la polimerizzazione io nel video sto rispettando proprio i tempi di polimerizzazione quindi 60 secondi in diretta sto facendo vado a sgrassare il colore a togliere la dispersione allora questa è la quantità una volta sgrassato e tolta la dispersione del semi permanente questa è la quantità di pigmento che può trasudare e che non compromette minimamente la tonalità del colore sottostante poi procedo con la sigillatura del trattamento con top coat per semi permanente che è un sigillante senza dispersione appunto come ho ripetuto fino adesso per cui non ha bisogno di essere sgrassato e deve polimerizzare in lampada come tutti i sigillanti 120 secondi nella lampada uv led 180 secondi nella lampada a bulbio v a 48 watt quindi sgrasso tolgo la dispersione del colore che ovviamente rimane giustamente opaco questo è quello che deve venire via al massimo ok colore perfettamente catalizzato e non minimamente compromessa la sua tonalità vado a sigillare anche questo con top coat per semi permanente lo farò catalizzare in lampada 120 secondi e non andrò a togliere la dispersione visto che appunto è un sigillante senza dispersione in questo modo io garantisco il mio trattamento una buona lucentezza nel tempo nel frattempo è nero ha catalizzato 120 secondi si è anche raffreddato in pochi secondi si raffredda quindi possiamo vedere che il lucido è perfettamente asciutto possiamo anche toccarlo possiamo fargli tutto quello che vogliamo rimane specchiato vedete il riflesso del colore del lucido scusate senza dispersione e questo è quanto nel frattempo l'altro sta canalizzando 120 secondi aspettiamo che completi la catalizzazione anche l'altro sigillante così vediamo anche quello come si comporta quindi fatemi pure tutte le domande che volete sotto al video io rimango a vostra disposizione chiaramente i vasi sono questi scusate che fino adesso non ve li ho fatti vedere che hanno due formati differenti solo per una questione di cambio di confezione e però il prodotto è lo stesso insomma si comportano così come vi ho appena fatto vedere aspettiamo la polimerizzazione questo è il top coat che vi ho fatto appena di cui ho fatto appena la dimostrazione togliamo e allo stesso modo vediamo che il sigillante è catalizzato completamente ok spero che il video vi sia utile e appunto rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento buona giornata e buon lavoro ragazze